Il Teatro della Fortuna presenta non poche iniziative musicali nel mese di dicembre, che confluiscono nell'inizio della stagione sinfonica a partire dal 1 gennaio. Si inizia il 13 dicembre con il concerto dei Frida Bollani Magoni, organizzato dal Paese dei Balocchi. Si prosegue il 17 con il concerto della banda Città di Fano a favore dell'Oasi dell'Accoglienza. Il 27 torna il Gospe, la cura di Fano Gezze. Il 31 seguirà sconcerto d'amore con Nando e Mail. E il 1 gennaio il primo appuntamento con la stagione sinfonica, il concerto di Capodanno con l'Orchestra Sinfonica Rossini. Seguirà il 9 febbraio il concerto di Carnevale diretto da Beatrice Venezzi. Il 22 marzo un concerto dedicato a Brahms e il 3 maggio un crossover dedicato a Madonna. Presente anche quest'anno anche la forme che il 14 marzo evocherà le atmosfere di Parigi dal primo al secondo impero. E il 14 maggio proporrà Venti del Nord con musiche di Grieg e Sibelius. Una stagione molto ricca come sottolineato dall'assessore alla cultura Cora Fattori. Il messaggio che vogliamo dare è che la musica è importantissima, la cultura è importantissima per vivere meglio, per crescere meglio e per far crescere una comunità sempre più serena e coesa. Sono tempi molto difficili ed è per questo che l'amministrazione in concertazione con tutte le iniziative, le realtà associative e con la fondazione teatro sta facendo uno sforzo per permettere l'ingresso a teatro a queste iniziative facilitato. Anche per chi meno se lo può permettere. Ecco che su questo contesto rientrano tutte le iniziative che faremo sotto Natale, in particolare quella di Capodanno che avrà una bigliettazione assolutamente accessibile. 10 euro per gli adulti, 5 per i bambini e biglietto gratuito sotto i 4 anni. Si è cresciuti tantissimo. Diciamo che fanno solo 10 anni che si prepara ad essere capitale della cultura. Abbiamo soprattutto messo insieme tutti quelli che sono gli attori del mondo della musica e questo ci permette di avere un cartellone ampio per tutti i gusti e sperando poi di riempire il teatro. Saranno 7 gli appuntamenti di fatto al pubblico, 4 concerti serali, 4 mattine per le scuole e una produzione con il grande Nicola Laimo di un disco che vedrà anche un'esecuzione pubblica. Quindi proporremo poi musiche di tutti i tipi, il concerto di Capodanno vedrà l'esecuzione delle aree più belle del repertorio lirico, il grande sinfonismo con un concerto interamente dedicato a Brahms. I solisti saranno il primo violino di spalla dell'orchestra, Henry Domenico Durante, e il primo violoncello perché nella nostra orchestra ci sono professori talmente bravi che possono fare anche i solisti.